Si è tenuta a Verona la processione solenne per riportare il corpo del patrono San Zeno dalla cattedrale alla basilica zenoniana. La lunga processione dei fedeli si è snodata per le vie del centro storico della città, passando dalla centralissima piazza Erbe in mezzo ai giovani e agli adulti che la sera si ritrovano in città, stimolando la curiosità della gente. Canti, lodi e testimonianze per risvegliare i veronesi sul tema della fede con una testimonianza viva di preghiera. È stato un evento straordinario vedere il santo patrono benedire con il suo passaggio tutta la città di Verona. Dopo il transito per le strade cittadine, durate un paio d'ore, i fedeli guidati dal vescovo Zenti hanno raggiunto la chiesa di San Zeno dove il corpo è stato ricollocato. È iniziato così il pellegrinaggio per la diocesi di Verona del corpo del santo patrono, a 1650 anni dalla sua consacrazione episcopale. Nelle prossime settimane sarà portato nei monasteri di clausura, nei vicariati e in alcuni ospedali per risvegliare la fede della gente, anche in occasione dell'anno della fede. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.